Siamo con Miss Gabriela Salgau che ci spiegherà del suo nuovo calendario inedito. Prego. Buonasera. Allora, il calendario è nato, non pensavo neanche di fare un calendario, però per fortuna è stata dalla mia parte. E al concorso Perla d'Italia ho venuto un shooting fotografico vicino a Ravenna, a un grande fotografico, Ernest Adami. E qui abbiamo organizzato il shooting e sono andata a fare diciamo 870 foto. Di qui ho scelto 26 fotografie per i due calendari. Diciamo che non è che era un sogno, però qualcosa di apparto, qualcosa che magari nel mio profondo avrei voluto farlo. E l'ho realizzato. Infatti vi faccio vedere. Questo sarebbe un calendario. Una copertina E questo è il secondo. Sono tutti e due molto belli, penso io, ma penso che vi piacciono anche a voi. Molto sensuali, niente vulgare. Il costo di ognuno è 50 euro, chi vuole acquistarlo. Si può definire un calendario d'autore? Certo, perché ogni pagina, ogni mese è una foto a parte. Quindi chi vuole può prenotarlo anche tramite l'LT4 blog o nei contatti riferiti. Metteremo il numero 12 in mare e chi ha voglia di sembrarlo, chi manda l'indirizzo e altrimenti posta la domanda subito. Grazie mille.